La verità è che io vorrei essere una madre permissiva, distaccata e che lascia al proprio figlio la libertà di fare le scelte che vuole e così mi presento. Però ci sono delle cose che mi creano dei problemi. Allora, mio figlio è iscritto all'Università di Trento dove studia interfacce e tecnologie della comunicazione. È un corso di studi fantastico ed è questo il problema perché è un corso di studi che contiene moltissime materie che io non solo conosco molto bene ma che fanno parte del mio lavoro da tantissimi decenni. Per cui, quando mio figlio mi chiama tutto contento e mi dice ma tu conosci il film Metropolis di Fritz Lang? Mi viene la fregola perché io, vabbè, non solo Fritz Lang e Metropolis ma ho dato, quando studiavo all'università, un esame di storia del cinema con un corso monografico sul cinema dell'espressionismo tedesco con la Bibbia, Siegfried Krakauer. Insomma, lo conosco molto bene anche perché poi, avendo vissuto in Germania, ho fatto una scorpacciata di film di quel periodo ogni volta che potevo, che c'era una retrospettiva. Oppure quando lui mi chiede se conosco New Romancer, il libro di William Gibson del 1984 che ha creato, diciamo, non dico l'iperspazio, però un certo tipo di immagine del futuro. È un libro che io ho lessi quando uscì e ho letto anche molti altri libri di William Gibson. Ecco, quindi mi trovo costantemente a dovermi frenare perché non lo voglio investire delle mie cose, non voglio che diventare paragone per quello che fa lui. Però, porca miseria, è terribilmente difficile anche perché trattandosi di materiale che conosco molto bene e poi ci vivo giornalmente, sempre cercando nuove cose, nuovi materiali in rete. Ho a casa anche tantissimi libri che ne parlano, quindi per me è molto difficile mordermi la lingua e evitare di dirgli guarda che c'è questo, questo e quest'altro perché è giusto che le cose le scopra lui. E quando non ce la faccio proprio più gli do dei consigli, poi, come oggi, gli dico, guarda, se mi vuoi mandare a quel paese, fallo tranquillamente perché ne hai tutto il diritto e sentiti anche sempre libero di non seguire i miei consigli. E anche se mi arrabbio è un fatto mio, sono problemi miei, non sono problemi tuoi, segui quello che tu ritieni giusto. Insomma, ci sto provando a non essere troppo dispositiva, non so se ci riesco, però ci sto provando.